Ditemi la verità, dottore. Antonio è a rischio. Ma che facciamo se può muore? Lo state mettendo in mezzo a una strada una vedova con tre figli piccoli. Dicono che ti sei fatto un amante. Che vuoi? Una cosa per me la potresti fare. Consegnare della roba. Che roba? Cocaina. Se inizi a giocare poi non ti puoi più tirare indietro. Io sono l'unica carta che hai. Ma è una carta che costa. Luisa Ranieri. Ma tu saresti capace di ammazzare un uomo? Per il ciclo Italian Crime Stories. Vita segreta di Maria Capasso. Sabato alle 21.20. Rai 4.